L'open science è uno dei fattori fondamentali dell'attuale ricerca nel mondo e il concetto di openness, cioè di apertura, è talmente complesso e anche variabile e con tanti risvolti positivi ma anche pericolosi che necessita uno studio approfondito. Dirna è un progetto di cooperazione tra l'Europa, quindi partner europei, e paesi non europei, in questo caso un solo paese, l'Azebagiano, che sta mettendo a punto a livello istituzionale l'organizzazione di open science, di open access e soprattutto dell'archivio istituzionale della ricerca. Anche tutti e tre questi argomenti richiedono tante conoscenze, tante competenze e anche una capacità, una grande capacità di policy making. Questo progetto si lega ad un altro progetto in cui sono state coinvolte le nostre bravissime colleghe delle biblioteche che hanno attivato in silenzio ma con grande professionalità questi servizi, spesso nemmeno noti a tutti i nostri colleghi e alla comunità scientifica. Quindi è questo progetto in cui stiamo condividendo con la Turchia, la Finlandia e l'Azebagian quello che sappiamo fare e quello che sappiamo. Secondo me è stato finora molto proficuo e devo ringraziare proprio il personale, il capo di tutto il sistema bibliotecario dell'università perché non solo ha lavorato bene nella nostra istituzione ma sta veramente dando una mano in questo progetto di cooperazione. Ci siamo concentrati, specialmente noi dell'area biblioteche, su come noi mettiamo a disposizione l'informazione e come questa informazione può essere acquisita, cioè l'accesso all'informazione, quindi tramite i nostri servizi, i nostri cataloghi, le nostre risorse che sono un patrimonio veramente prezioso per le attività che svolge un Ateneo, quindi per la ricerca e per la didattica e come noi le mettiamo a disposizione di tutti i nostri utenti, cioè della comunità scientifica, della comunità accademica dell'Ateneo e in generale della comunità scientifica. Ci siamo concentrati su come ci stiamo avviando verso un'open science, una scienza aperta, consentendo la condivisione, prima l'accesso e poi la condivisione di quelli che sono i risultati della ricerca, quindi tramite l'accesso alle nostre risorse e grazie anche a questo percorso di trasformazione che è in atto di appunto accesso e di poter pubblicare i risultati della ricerca che sono poi i prodotti della ricerca di ogni ricercatore, di ogni studioso tramite la possibilità di pubblicare questi risultati della ricerca e noi dell'area biblioteca in questo modo li assistiamo con una sorta di nuova forma di contratto che viene stipulata con gli editori grazie alla quale loro possono non solo accedere alla lettura della letteratura scientifica ma possono anche pubblicare i prodotti della loro ricerca quindi sostanzialmente abbiamo esposto questo ma anche tutti i servizi in generale che noi dell'area biblioteca mettiamo a disposizione dei nostri utenti e della comunità accademica.